Vuoi sapere cosa sono gli integratori fitoterapici e a cosa servono? Sono Filippo Ongaro, ti voglio spiegare con un po' di attenzione che cosa si intende per fitoterapici e che cosa si può fare con i fitoterapici. Voglio fare subito una premessa, il termine integratori fitoterapici è sbagliato, gli fitoterapici non integrano nulla, sono degli estratti ovviamente da piante che hanno una funzione di regolazione della nostra fisiologia ma non è che integrano qualcosa, non ci manca l'estratto della pianta, quindi integratore è un termine che va utilizzato per qualcosa che ha a che fare con la nostra nutrizione, non per queste sostanze. Quindi la prima cosa da tenere presente è in realtà che non sono integratori e che sono estratti da piante. C'è una grande differenza perché, ed è connesso un po' al secondo punto, gli estratti da piante, le piante non sono per definizione innocue, buone, quindi vorrei immediatamente farti soffermare sul concetto, le piante sono bellissime, fantastiche ma sono anche velenose, le piante hanno delle azioni potenti di regolazione della nostra fisiologia e lo sottolineo perché fondamentalmente l'origine dei farmaci è anche dal mondo botanico. Questo non è per spaventare o per dire i fitoterapici non devono essere utilizzati o fanno male, ma semplicemente per indicare che facciamo un po' di attenzione perché oggi che va così di moda a parlare di sostanze naturali e anche, lasciami dire, è un po' troppo di moda a parlare male del farmaco, sembra che il farmaco abbia rovinato l'uomo moderno, il farmaco ha anche salvato l'uomo moderno, quindi facciamo attenzione a bollare quello che è farmacologico come qualcosa di negativo e quello che è naturale qualcosa di necessariamente positivo. Ma tornando al tema dei fitoterapici voglio anche dirti che sostanzialmente la storia della farmacologia trae la sua origine dal mondo vegetale ovviamente, perché? Proprio perché le piante hanno importanti azioni di regolazione della nostra fisiologia che possiamo imparare a sfruttare e questo lo dico perché c'è una grande differenza appunto con l'integratore, l'integratore non ha questa funzione, l'integratore è qualcosa che integra una mancanza che c'è a livello nutrizionale e ha un'azione fisiologica molto più di base, molto meno evidente, mentre con il fitoterapico la azione è molto diretta e proprio per questo motivo devo anche dire che diciamo il fitoterapico non è un qualcosa da utilizzare con il fai da te, non fai da te, perché è vero che adesso si trova dappertutto scritto quella pianta fa questa cosa, quell'altra pianta fa questa cosa, ma non significa che sia facile usarle. Diciamo la categoria forse di fitoterapici più interessanti e per certi aspetti anche quasi più misteriose è quella delle piante adattogeniche, dal ginseng, l'eleuterococco, la rodiola, l'ashwaganda o vitania, sono tutte piante che sono state studiate a fondo perché hanno un'azione appunto di facilitazione della nostra risposta allo stress, ma tanto per dirti quanto complessa è l'azione di queste sostanze proprio le piante adattogeniche hanno un po' stupito i farmacologi perché hanno addirittura delle azioni che sono quasi incomprensibili, se hai la pressione bassa tendono ad aumentarla, se hai la pressione alta tendono ad abbassarla per esempio, una cosa che è poco comprensibile per una molecola invece sintetizzata in laboratorio per avere un'azione mirata. Quindi i fitoterapici sono delle sostanze meravigliose, possono essere utilizzate per molte ragioni, assolutamente non da utilizzare per conto proprio senza sapere che cosa si fa o ascoltando un consiglio un po' dato a casaccio, sono sostanze che dovrebbero essere utilizzate dal medico e quasi mai in una situazione di sostituzione di una terapia farmacologica, cosa che come dico tante volte e ribadisco anche oggi non va fatto da sé mai, quindi mai va fatto dall'utente di cambiare un farmaco con una sostanza naturale, in genere non lo fa neanche il medico ma l'interesse per i fitoterapici in medicina è per le fasi precoce delle problematiche, quando c'è all'inizio dello sviluppo di una situazione patologica c'è ancora l'opzione di intervenire con qualcosa di meno diretto rispetto al farmaco sintetico, il fitoterapico può avere una buona funzione, ci sono delle sostanze, delle piante, degli estratti come la bosveglia per esempio che è molto utile per l'infiammazione o la curcumina molto utile per l'infiammazione che non sostituiscono un farmaco antinfiammatorio in una fase acuta ma possono essere utilizzati in una fase meno acuta di gestione delle problematiche croniche, quindi fitoterapici meravigliosi, l'unica cosa è anche qui, facciamo attenzione, usiamoli con la testa e sotto la guida di un professionista medico che conosca queste tematiche.